Consigliere Albano, anche quest'anno la provincia sosterrà le iniziative dell'Associazione Carlo La Catena? Sì, anche quest'anno perché credo sia fondamentale che non si dimentichi chi è caduto per difendere la giustizia, la legalità, per cui anche quest'anno l'Associazione Carlo La Catena ha questo evento che è ancora forse più importante degli altri anni perché quest'anno ricorrono i 20 anni della strage di Via Palestro a Milano e dove poi è caduto il vigile del fuoco Carlo La Catena che era un giovanissimo ragazzo napoletano che per difendere, per salvare vite ha perso la sua. Credo che sia fondamentale ricordare questi giovani, le forze dell'ordine ma anche, e succederà anche quest'anno, in qualche modo premiare, forse il termine non è adatto, ma insomma dare un riconoscimento a coloro che dedicano la propria vita alla solidarietà, alla difesa dei più deboli, per cui saranno anche riconosciuti i meriti in questo senso ad alcuni cittadini che si distinguono proprio in questo modo. La provincia, così come le altre istituzioni dovrebbero fare, deve assolutamente continuare ad appoggiare queste iniziative che danno grande risalto a valori che in fondo si stanno un po' perdendo e a persone che si dedicano a questo. 20 anni dall'episodio, 6 anni di attività della sua associazione. La provincia di Napoli sostiene queste iniziative da molti anni, anche quest'anno sarà un evento particolare? Credo che ogni anno è un evento particolare, perché noi cerchiamo attraverso questo premio al merito e all'impegno civico di mettere in evidenza quei lati bui della nostra città, che sono quelli invece che avrebbero necessità di una maggiore luce. Noi questo cerchiamo di fare ogni anno cercando di dare quel volto a quelle persone che hanno il coraggio di poter migliorare il territorio napoletano, che hanno grosse difficoltà. Quindi ogni anno noi cerchiamo in tutti i modi di segnalare quelle persone che effettivamente si sono distinte nell'anno precedente. Una commissione straordinaria, c'è Angela Procaccini, Giovanni Cerni, c'è Gian Domenico Leper. Insomma, quest'anno avete fatto un'ottima scelta, so che possiamo già dare qualche anticipazione sui premiati. La medaglia chi sarà consegnata? Abbiamo già fatto chiaramente lo spulcio, la commissione ha già decretato gli assegnatari. Tra questi ci sta il direttore Gianluca Guida, che è il direttore dell'Istituto Penale Minorile di Nisida, che fa un lavoro eccezionale nel trasformare i ragazzi che stanno in uno stadio di difficoltà, mettendoli in condizioni dell'inserimento sociale. Quindi un qualcosa di molto egregio, potremmo dire un fiore all'occhiello delle nostre difficoltà territoriali. Poi abbiamo Pina Conte, che si impegna anche lei con l'associazione nel quartiere sanità, con 30 mamme hanno organizzato un'associazione cercando di migliorare sempre il territorio della sanità. Ci sta Liliana De Curtis, che segue le orme del padre, facendo beneficenza, mettendo a disposizione i suoi fondi, le sue possibilità economiche, non dimenticando, come tanti artisti fanno, dimenticano il loro territorio. Invece sia il papà Antonio De Curtis che Liliana De Curtis da sempre si ricordano le loro origini, la loro gente e poi tanti altri. Al di là del premio, l'associazione so che è impegnata quotidianamente sul territorio, sulle iniziative di sostegno anche al volontariato. Quali sono le principali attività che in questo periodo voi avete intenzione di intraprendere? Allora, in questo periodo particolare, parliamo del ventennale, siamo particolarmente impegnati in due grandi cerimonie, questa qui napoletana e poi abbiamo avuto l'anno scorso l'autorizzazione del Ministero degli Interni per indire un premio nazionale dedicato al mondo dei Vigili del Fuoco, dove noi daremo un premio nazionale per quei Vigili del Fuoco che si sono distinti con il loro impegno, con il loro operato a difesa del territorio e della popolazione. Questo premio lo consegneremo a Milano, proprio nel cerimoniale del ventennale della strage via Palestro, il 27 luglio, dove c'è una collaborazione, una sinergia tra noi, il Comune di Milano e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, chiaramente attraverso il Comando di Milano. Quindi un'iniziativa che esce dai confini della Campania per spostarsi adesso sul territorio nazionale. Sì, sicuramente, ma la cosa importante è da sottolineare che avremo un Vigili del Fuoco napoletano che ha un merito particolare, chiaramente insieme ai suoi colleghi, perché sono alla stessa stregua di salvo d'acquisto. Loro hanno sacrificato la loro vita per salvare tante vite umane, perché lì era una strage per i passanti, per le persone che, come è successo, via dei Gergofili a Firenze, era una strage per le vittime innocenti. Loro, invece, si sono accorti del pericolo dell'esplosivo e hanno lavorato fino in fondo per mettere in sicurezza i cittadini e quindi sacrificando la loro vita. Quindi il premio Carlo Lagatena napoletano sarebbe o è il fiore all'occhiello del mondo dei Vigili del Fuoco. Grazie.